Scegliamo. Ecco, qui ci sono quelli che vengono finiti, tutti siano sentiti, non tutti, non sono. In realtà, nei progetti filosofici universitari, il nostro corpo è suddiviso in linea dalla chiamata di produzione, che comunque racconta i medici, perché è lo stesso percorso, che è un sacco di pratica, l'argomento, 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 l'argomento. L'argomento, 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 l'argomento. difficilmente la risposta se per caso non è un risco lui, se non mi riesco un altro bene, a questo punto trovo un dolore a paura che provoca o un disagio o un momentaneo a paura o una volta provocata a fattore di posto quindi non possiamo dire il mio che è il suo cervello ma di secondo, perché è facile provocare la paura provate a prendere il vostro posto non nel punto non nel punto 4-5 secondi se vuoi premere se notate la mano nel prossimo occhio, ma non perché provate sentirete un dolore piuttosto interesse quindi questo punto viene indicato al primo punto che è il secondo punto se c'è questo punto non con la mano, ne questo nell'altro indicato dalle arti marziali che noi nella parte interna del vostro con 7-8 cm più verso la mano ma anche questo è molto sensibile voglio vedere cosa fate a volerare la persona in questo modo quindi, se dovessi fare l'ansia quindi, semplicemente prendere l'unirazio io sono un sentito fisso questo è il punto di sensibilismo che è difficile non è necessario non è necessario non è necessario il biciclete è un punto sensibile è chiaro che non riesce a dire usare l'apendita in maniera perfetta perché, caldo, soltanto in un gancio io ho raggiunto in questo modo io devo prima sparare il corpo potrei sbagliare mi prendo il piede potrei sbagliare la parata quindi io devo riuscire a fare un movimento di questo tipo panico, il cuore e con le nobile alla parata più forte che posso sulla parte più gonfiata un corpo molto forte all'estertizia il braccio per un secondo per me è sufficiente per quello che voglio fare provoca tra l'altro un dolore così intenso che per un anno il corpo rimane sciatato con una colazione di secondi questo è quello che voglio fare magari per il piccolo scianto non ci vuole chiaro io non ci riuscirei mai a fare la teglia che ho fatto adesso se non avessi per così dire non è stato utilizzato l'anno cioè dolore molto forte al muscolo shocker momentaneamente basta di reagire ti permette di prendere una persona che ti portare per esempio un corpo caldo in condizione di sicurezza quindi questo esempio è un punto insensibile che provoca un shocker e ti permette di di autorizzarlo per qualche secondo scendiamo ancora sotto il bosco del vettorale questa parte della vostra è un punto sensibile un punto sensibile però con un dolore notevole tra l'altro non sono un colpo ma di nude ovviamente quando abbiamo un anno si possono dire un tipo di posto se scendiamo ancora di più su un pofino questo questa è definita la forza sotto il solare non è finito questo questo è un punto sensibile però dietro il piano quindi anche se apparenza niente un punto che ti piace nel tempo in realtà lo porto tirato con molta forza può provocare con lo spappolamento che è il mio perizio dei vettoriani sotto la corona fondanella fondanella tempie la base del naso questa parte del mento la forza la forza la forza la forza la forza la forza questa parte questa parte l'esterno guarda se voi mettete la mano sull'esterno sentite poi cominciamo a migliorare ecco questo è un punto sensibile un colpo girato con una certa forte anche senza bisogna entrare come fanno iniziale o un colpo forte in questo punto troppo in alcance seguiamo da parte posteriore le braccia anche il punto esterno del mondo è un punto sensibile con molte difficili le braccia ma soprattutto seguito quello scontro lui me lo mette appunto agisce da ieri dietro abbiamo l'osso sacro che è un punto sensibile però ovviamente non può essere che si non che non abbiamo non le non abbiamo qui non ci non non è stato unico spettino che sta a te vedere.